La visita la facciamo perché sono le nostre costituzioni che prevedono che di tanto in tanto si va a visitare i fratelli per la provincia a vedere come stanno, come va la vita. La visita se realizzano continuamente, questo lo prevedono le Costituzioni, e quando si fanno si vanno a trovare i fratelli, a visitarli in ogni casa e a vedere come stanno le loro attività e la vita fraterna dell'Apostolo. Nel Cile c'è una realtà storica molto bella della presenza di varie missioni fatte dai guavaresi, dagli spagnoli, dagli italiani e dagli olandesi, però oggi si tratta di fare un passo avanti perché oggi le sfide e la missione sono diversi. In Cile si trova una tradizione storica interessante perché qui hanno avuto missioni di Alemania, Roviera, Spagna, Italia, Suiza, Olanda, però ora la missione ha un aspetto diverso attualmente in Cile. Bisogna anche dire che i fratelli hanno avuto la capacità di essere molto apprezzati della gente per la loro semplicità, per la loro vicinanza al popolo, e questi sono valori da salvaguardare anche oggi. Bisogna anche dire che i fratelli hanno avuto il prezzo della gente e questo del Dio è una semplicità, questi sono valori che bisogna conservare. E' interessante che le vocazioni oggi ci vengono più attraverso i mass media che non attraverso il contatto diretto. Quando un giovane cerca il senso della sua vita e si orienta verso la vita religiosa va a cercare sulle pagine verne e gli ordini religiosi quella che più corrisponde alle sue aspettative. E' interessante che ora le vocazioni arrivano più attraverso i mass media, i mass media, i mass media, i mass media, perché i giovani vanno a cercare sulle cose che più interessano e trovano risposti a loro rispondere. Vieni a noi, Cappuccini! E ci faremo andare dove nessuno vuole andare, dove i bisogni sono più grandi del mondo. Vieni a noi, Cappuccini! E ci faremo andare dove nessuno vuole andare, dove ci sono molte necessità. Vieni a noi, Cappuccini! Vieni a noi, Cappuccini! Vieni a noi! Vieni a noi, Cappuccini! 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 Vieni a noi, Cappuccini!